ciao oggi vogliamo presentarvi il quartiere dove sorgerà il progetto del giardino verticale nel dettaglio vedremo l'area interessata gli accessi i parcheggi e i servizi non solo vedremo anche la vicinanza al centro città e ai maggiori punti di interesse il giardino verticale nascerà nella parte nord est della città proprio a ridosso del quartiere di san francesco e più precisamente in via pellizzi questo quartiere è molto conosciuto ed apprezzato sia per la sua storia sia per le numerose attività presenti la posizione del giardino verticale è strategica per diversi fattori è molto vicino al centro ma allo stesso tempo alle comodità tipiche della periferia infatti via pellizzi è facilmente raggiungibile dalla superstrada firenze pisa livorno tramite l'uscita pisa nord est con una viabilità ordinaria quasi sempre libera dal traffico in pochi minuti si raggiunge il giardino verticale tutti sappiamo che vivere nel centro di una grande città è per molti versi difficile poiché abbiamo sempre a che fare con il traffico e con il problema dei parcheggi il giardino verticale invece all'enorme vantaggio di trovarsi nelle immediate vicinanze di via angelo battelli dove si trovano molti spazi dedicati ai parcheggi non solo ma grazie a strade decisamente ampie la viabilità è quasi sempre scorrevole in tutto il quartiere quando si sceglie dove abitare è molto importante capire anche quali servizi sono offerti nel quartiere il giardino verticale è molto vicino a tutti i servizi essenziali come negozi di alimentari supermercati farmacie poste eccetera l'aeroporto e la stazione sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici non è necessario presentare i punti di interesse di una città come pisa conosciuta in tutto il mondo importante invece è dire che il giardino verticale si trova a pochi passi dal centro e da tutte le attrattive della città come si vede anche dalle immagini siamo praticamente accanto alle vecchie mura e possiamo vedere su uno sfondo la torre di pisa i vantaggi dall'avere un'abitazione di qualità eco sostenibile e in una posizione centrale ma non problematica sono evidenti non vi rimane altro che contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento del tutto senza impegno con i nostri tecnici buona giornata dal giardino verticale